Oroscopo del giorno, mercoledì 27 novembre 2019 Ariete Amore In amore potrebbero esserci delle incomprensioni, ma in serata tutto si appianerà e potrete godervi un po' di serenità. I single potranno fare nuove conquiste e magari trovare l'amore vero che sognano da tempo. Lavoro In ambito professionale ci saranno nuove soluzioni per intraprendere progetti interessanti e recuperare il tempo perduto. Toro Amore In amore ci saranno delle divergenze con la persona amata, ma non temete, non saranno cose irrisolvibili. Giornata ideale per vivere nuove esperienze, anche con gli amici. Bei momenti sono in arrivo per i single. Oggi farete nuove conoscenze intriganti. Lavoro La sfera professionale porterà dei miglioramenti notevoli che comporteranno anche tanti vantaggi economici. Gemelli Amore Oggi nella sfera sentimentale non mancheranno le polemiche e questo vi renderà molto nervosi. Fate tesoro dei consigli di chi vi vuole bene per affrontare tutto al meglio. Per i single invece potranno esserci incontri casuali molto interessanti. Lavoro Molti saranno gli impegni in questa giornata. Cercate di fare attenzione a portarli tutti a termine. Cancro Amore In amore avete bisogno di tranquillità e non avete più alcuna voglia di sopportare litigi e discussioni. Cercate di agire con maggiore diplomazia verso chi vi circonda. I single oggi avranno difficoltà a mantenersi calmi di fronte a certe situazioni avverse. Lavoro Sul lavoro bisognerà trovare l'occasione giusta per darvi quel meritato successo a cui aspirate da tanto. Leone Amore Ottimo periodo per i sentimenti. State vivendo un momento di recupero ma sarete pizzicati anche da punte di nostalgia per un amore passato che ancora non avete dimenticato. I single saranno ricchi di fascino e avranno voglia di vivere nuove emozioni. Lavoro Sul lavoro alcuni problemi troveranno una soluzione mentre altri ve li porterete ancora dietro e dovrete risolverli al più presto. Vergine Amore Oggi dovrete essere prudenti nelle scelte da fare in amore. Prendete le situazioni con maggiore leggerezza e vivrete meglio. Cercate anche di vedere tutto con maggiore buon umore. Guai in vista per i single L'approccio con una persona potrebbe non essere visto di buon occhio. Lavoro Sul lavoro prendete le vostre decisioni con calma. Meglio non agire di fretta nelle cose importanti e ponderare ogni cosa. Bilancia Amore In questo periodo è necessario agire con precauzione e se anche avete bisogno di un chiarimento dal partner, fatelo, ma senza insistere. Potreste vivere dei momenti di tensione e questo non è il miglior modo per tentare una riconciliazione. Ottimo momento per i cuori solitari. L'amore arriva inaspettato. Lavoro In ambito lavorativo sono in arrivo delle buone energie. Prendete le occasioni migliori al volo. Scorpione Amore La luna favorevole vi farà vivere una bella giornata per quanto riguarda l'amore e trascorrerete momenti felici. Giornata invece un po' malinconica per i single. Gli influssi dei pianeti non sono proprio positivi. Lavoro Un lavoro sarà meglio fare attenzione alle trattative. Bisognerà anche riflettere prima di fare nuovi investimenti ed evitare azzardi. Tagittario Amore Giornata non proprio alla grande per i nati del segno. Potrebbero esserci discussioni familiari. Per quanto riguarda l'amore sarà invece una giornata molto interessante. I single saranno alle prese con nuovi incontri. Lavoro Non cercate di fare le cose oltre le vostre possibilità. Siate prudenti e riflettete prima di decidere. Capricorno Amore Con la luna in opposizione oggi sarete leggermente nervosi e anche un po' diffidenti. Fate mente locale e cercate di capire cosa volete. Sarà una giornata tranquilla invece per chi è single che potrà vivere con ottimismo anche i nuovi incontri. Lavoro A causa della luna dissonante sul lavoro potrebbero esserci dei rallentamenti che impediranno di raggiungere gli obiettivi prefissati. Acquario Amore Avete addosso una bella energia in campo sentimentale. Venere è positiva nel segno e tutto procede a meraviglia. Non cedete però al nervosismo per delle sciocchezze. Giornata nostalgica per i single e sempre vi va la speranza di trovare l'anima gemella. Lavoro Sul fronte professionale avrete molte cose da fare, ma non stancatevi troppo e staccate un po' la spina per riprendervi. Pesci Amore Giornata di grande interesse per le coppie che potranno recuperare un rapporto con la persona amata. Migliora la situazione per i single. Ci saranno ottime possibilità di trovare l'intesa giusta con una persona. Lavoro Sul lavoro ci saranno nuovi impegni da gestire. Dovrete però avere pazienza, visto che non mancheranno fastidi. Siamo Grazie per la visione! Mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti.